Rolex Submariner Hulk, l'icona verde dell'orologeria. Il Rolex Submariner Hulk è uno degli orologi da pulso più iconici e riconoscibili nel mondo dell'orologeria. La caratteristica più evidente del Rolex Submariner Hulk è il suo colore verde brillante che domina il quadrante e la lunetta girevole unidirezionale. Questo vivido verde è stato la ragione per cui il modello ha guadagnato il soprannome di Hulk, richiamando immediatamente l'immagine del famoso supereroe dei fumetti. Il colore verde rappresenta una scelta audace e distintiva, che si distingue nettamente dagli orologi tradizionali. La cassa in acciaio inossidabile contribuisce alla robustezza dell'orologio, mentre il bracciale aiste raggiunge un tocco di eleganza e comfort. L'acciaio inossidabile è noto per la sua resistenza alla corrosione, rendendo il Submariner Hulk ideale per le sfide subacquee. La combinazione di robustezza e raffinatezza nel design è una delle caratteristiche distintive di questo orologio, che lo rende adatto sia per le immersioni subacquee che per le occasioni formali. Il Rolex Submariner Hulk è un orologio progettato per eccellere sotto l'acqua. La sua resistenza all'acqua fino a 300 metri lo rende una scelta ideale per i subacquei professionisti e gli appassionati di sport acquatici. La lunetta girevole unidirezionale, gli indici e le lancette luminescenti assicurano un'accurata misurazione del tempo trascorso sott'acqua, fornendo così un elemento critico per la sicurezza nelle immersioni. La combinazione di leggibilità impeccabile e resistenza all'acqua lo rende un compagno fidato per le avventure subacquee. Tra le personalità più influenti che hanno scelto di indossare il Rolex Submariner Hulk spicca il famoso calciatore Zlatan Ibrahimovic. Con il Rolex Submariner Hulk, hai la possibilità di possedere una parte della storia dell'orologeria e di portare con te un'icona verde che continua a brillare nel mondo dell'orologeria di lusso.